Quando arrivavano al villaggio di Bethphage, vicino al monte degli Uivi, Gesù mandò avanti i due discepoli, disse loro, andate nel villaggio che è qui di fronte a voi e subito troverete un puletro legato sul quale nessuno è ancora salito, slegatelo e portatemelo qui e se qualcuno vi dirà perché fate questo, risponderete, è il Signore che ne ha bisogno, ma poi lo rimanda indietro subito. Andarono e trovarono il puletro legato vicino a una porta, fuori sulla strada e lo selegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché si legate questo puletro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono cadere. Portarono il puletro a Gesù, li gettarono sopra i loro mantelli ed egli dissero sopra. Molti stendevano sulla strada i loro mantelli, altri invece stendevano la coscella tagliata dagli alberi e facevano come un passetto. La gente che camminava davanti a Gesù e quella che veniva dietro gridava ını da un'ac antigua.